La Giunta di Pomezzi ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del lungomare delle Meduse a Torvaianica nel tratto compreso tra Via Francoforte e il Fosso Rio Torto. I lavori saranno sostenuti con un finanziamento regionale di 1.400.000 euro più 200.000 euro di fondi comunali. Il piano, spiega l'assessore Federica Castagnacci, include l'incremento di spazi verdi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la valorizzazione dei varchi pedonali a mare, oltre ad impianti di videosorveglianza, colonnine di ricarica per auto e bici elettriche e aree wifi di libero accesso, conclude. Inoltre, la Giunta ha dato l'ok alle operazioni di allargamento e messa in sicurezza di Via di Vallecaia. L'intervento sarà a carico di rete ferroviaria italiana per un importo che supera i 19 milioni di euro e migliorerà il collegamento tra il centro abitato e la stazione di Santa Palomba, oltre a ridurre il transito dei veicoli su Via dei Castelli Romani. Si tratta di un tassello fondamentale per lo sviluppo del territorio, ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà. Recuperiamo un'infrastruttura importante e incrementiamo le linee di collegamento cittadino, senza però aumentare il consumo di suolo, ha concluso.